È in corso il congresso dei Labor a Manchester e lei è di ritorno proprio da quel congresso. Facciamo un bilancio? Il bilancio vede i laboristi impegnati in una fase di ricostruzione di profilo politico dopo che l'anno scorso si erano diffuse molte voci su una insidia anche alla leadership del partito di Ed Miliband e di un suo profilo ritenuto spendibile e gradevole dall'opinione pubblica ma non adatto alla funzione di governo. Questa volta nel corso di quest'anno diciamo sventata questa minaccia alla leadership il Labor sotto la guida di Miliband ha cercato di offrire un profilo del leader e della storia personale del leader come adatto a riprendere in mano il destino del proprio paese e soprattutto a riunificarlo. Sostanzialmente il messaggio dell'intervento di Ed Milibandieri è stato in chiave abbastanza nazionalista, One Nation Rifacendoci addirittura al tempo di Benjamin Disraeli e di Clement Attlee un discorso tutto focalizzato sulla natura dei valori britannici e sulla capacità dei britannici di essere alla guida del nuovo mondo. Per un visitatore internazionale è una cosa un po' strana perché onestamente ci siamo sentiti effettivamente un po' visitatori non una parola sul mondo, non una parola sull'Europa. Il discorso era molto rivolto all'elettorato domestico. Questa apertura di Miliband che cerca di aprire un po' il suo partito, cerca di parlare a tutti può rappresentare una concreta alternativa di governo a Cameron? Ma io credo che un po' diciamo questo è un argomento anche feticcio nel dibattito di casa nostra, nelle primarie di casa nostra. Se uno debba parlare ai suoi elettori o parlare a tutto il paese. È chiarissima il tentativo, la strategia di Miliband di parlare a tutti gli elettori, quindi inclusi gli elettori delusi dall'esperienza di governo dei conservatori. È chiaro che in tutto questo c'è anche una sorta di giustificazione, che si può leggere con qualche malizia interna, che Miliband ha fatto per quegli elettori che hanno abbandonato il Lebor dopo 15 anni. Quasi a dire, mentre mi apro agli elettori delusi dei conservatori, cercò anche di riconquistare coloro che erano stanchi e insoddisfatti della gestione di Blair e di Gordon Brown. Quindi un messaggio che viaggiava per linee esterne e per linee interne. E poi secondo me c'è un bacino interessante su cui i laboristi cercano di lavorare, che è quello dei liberali. Un bacino serissimamente compromesso da una collaborazione di governo che non sta portando a Nick Clegg i risultati sperati. La ricetta anticrisi invece dei leader dei labor convince? Ma devo dire che secondo me il discorso era più improntato a offrire un profilo valoriale, più che economico. E dunque nel messaggio del One Nation, cioè della società che si trova tutta insieme sotto la bandiera britannica, l'attenzione è stata soprattutto su due temi di stato sociale. Uno è il sistema educativo e l'altro il sistema sanitario. Quindi cose che peraltro attraversano trasversalmente il dibattito in molti paesi europei e non soltanto europei. Ma non sia francamente, questo mi ha un po' sorpreso, discusso di fase economica e di ciclo economico. Questo è un tema che domina il dibattito dell'Europa continentale. In teoria dovrebbe essere centrale anche nell'economia britannica, che ha scommesso tutto sui servizi finanziari e sul fatto di essere un po' l'hab americano del mondo europeo. Ma invece il tema non ha ricevuto l'attenzione che mi sarei aspettato. Sembra un po' deluso, si aspettava di più da questo congresso? Si capisce che sono un po' deluso, sì, un pochino sì. Sì, mi aspettavo un po' di più, nel senso che anche l'anno scorso avevo notato questa sorta di ripiegamento domestico ombelicale del Lebur, che pure ha sempre una platea nutrita di ospiti internazionali, non soltanto europei. I quali però se reagiscono come ho reagito io, cioè assistono a uno spettacolo che sembra in qualche modo non riguardarli, non coinvolgerli, si possono interrogare legittimamente sull'ambizione di questo partito di guardare al di fuori dei propri confini nazionali. L'anno scorso Milliband se la cavò con alcuni passaggi abbastanza tiepidi, devo dire, sul come reingaggiare il Lebur e l'Inghilterra dentro il dibattito europeo. Ma almeno l'anno scorso c'era una giornata quasi intera dedicata alla Gran Bretagna del mondo. Quest'anno non c'era proprio traccia di tutto questo. Il massimo dell'apertura è stata la celebrazione del successo britannico alle Olimpiadi. Diciamo, il cosmopolitismo inglese passa attraverso le Olimpiadi. Il che, come dire, mi manda un messaggio che per quanto ci riguarda può essere anomalo rispetto alla percezione che noi abbiamo di noi stessi. Sì, però è incoraggiante. Gli italiani sono molto più aperti sull'orizzonte internazionale di tanti paesi ai quali pure guardiamo talvolta con invidia.